Per favore, ascoltami. Hai bisogno di me. Siamo sempre stati qui e non ci avete mai chiesto cosa pensassimo, cosa potessimo fare per voi. Dove siete? Cos'è successo? Perché questo silenzio? È vero, ci siamo dispiaciuti, a volte lamentati. Eri sempre di fretta, di corsa. Ma in fondo ci piacevi proprio così. Ed ora? Ora mi manchi da morire. Tornate all'antico e sarà un progresso. E camminerete di nuovo sotto il nostro sguardo. Ma il tempo, il tempo guarirà tutto. Tornate. 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 Tornate.